Amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e del sito Gianluca Rossi.it, nel momento in cui io vi parlo non so naturalmente i risultati di Juventus e Milan, so comunque i risultati di Napoli e Roma che sono rimasti dietro. L'Inter ha confermato il secondo posto, si è ripreso il secondo posto a spese del Sassuolo che l'aveva temporaneamente scavalcata, però ripeto è chiaro che la mia disamina in questo momento non può essere completa per quanto riguarda l'undicesima giornata del campionato di Serie A. So solo che siamo secondi, sicuramente alle spalle del Milan, so solo che teniamo dietro oltre che il Napoli e la Roma anche la Juventus. Anche a Cagliari è stata una partita sofferta, parliamoci chiaro, perché ci siamo trovati dopo aver sprecato una miriade di occasioni da gol, almeno cinque, ci siamo ritrovati comunque sotto, ancora sotto per un Euro-goal di Sottilla, un grandissimo gol, una distrazione difensiva, una palla che aveva perso Eriksen in campo dal primo minuto, ma poi sono successe altre cose per cui si poteva rimediare prima. Naturalmente è chiaro che per alcuni tifosi dell'Inter adesso c'è già un nuovo obiettivo, perché alcuni veramente se non stanno male non sono contenti e quindi adesso l'obiettivo è Andanovic, va bene, adesso c'è anche il problema del portiere, ogni giorno qui c'è un problema, in realtà Sottilla per chi sa di calcio ha fatto un grandissimo gol sul quale francamente nulla poteva Andanovic, ma nulla poteva qualsiasi portiere. Certo poi miracoli succedono, qualche miracolo effettivamente l'aveva fatto Cragno, Cragno che però poi nel secondo tempo è stato assolutamente deleterio per il Cagliari perché negli ultimi 20 minuti pur essendo sotto e pur continuando a creare occasioni, Conte ha rimescolato completamente le carte e devo dire che le sostituzioni sono state azzeccate. Allora togliamoci subito il problema di Eriksen che voglio dire ha fatto 20 minuti buoni assolutamente, quelli iniziali con assi spreziosi, ha avuto poi una grande occasione per andare a segno, però aveva già sbagliato Lukaku, sul tapina ha sbagliato anche lui, anche perché nel frattempo si era creato un muro a protezione di Cragno. Uscito Eriksen, ma non per questo, sono state un po' rimescolate le carte, Sanchez comunque si è mosso meglio del solito anche se ancora una volta non ha trovato il gol e l'Inter negli ultimi 20 minuti è riuscito a risolverla, devo dire prima con Barella, tra l'altro ex che non ha nemmeno gioito e lì ha sbagliato assolutamente Cragno che è uscito malissimo su un calcio d'angolo, poi è rimasto fuori dai pali e Barella devo dire l'ha uccellato con un tiro dalla distanza, secondo me c'è un errore anche poi di Cragno sul gol di D'Ambrosio che è l'uomo devo dire che segna spesso dei gol determinanti e non si è smentito nemmeno a Cagliari perché quello è stato il gol del 2-1, poi nel finale il Cagliari si è buttato avanti e addirittura con Cragno su un calcio d'angolo dei Sardi e lì Lukaku è partito come un treno ed è arrivato un po' come si usava quasi nell'oratorio, poteva anche permettersi il lusso di stoppare la palla sulla linea di porta e di metterla dentro di testa, è una vittoria indubbiamente importante, una vittoria che in qualche modo fuga il contraccolpo psicologico, il contraccolpo psicologico che sembrava esserci a un certo punto quando si continuavano a creare occasioni non si riusciva a metterla dentro, questo è un problema che resta, non voglio assolutamente sentir parlare di partita della svolta perché l'avevo detto dopo l'infausto Inter-Real Madrid 0-2 che avevo bisogno di almeno 5 vittorie per parlare di svolta, torno a dirlo adesso ovviamente perché lo Shakhtar e l'eliminazione in vereconda dall'Europa ha interrotto il conteggio quindi zitti e muti, si è vinto a Cagliari, bene, ma non voglio assolutamente parlare di partita della svolta, bisogna di almeno 5 vittorie per parlare di partita della svolta, 5 di fila, questa è la quarta vittoria su 5 perché ci dobbiamo mettere anche il Borussia Mönchengladbach, se vogliamo andare anche nei dettagli poi è la quarta vittoria su 5 dove si segnano 3 gol perché 3 si erano segnate Mönchengladbach, 3 con il Bologna, 3 con il Cagliari, 3 con il Sassuolo, perfetto la regola del 3 ma ce ne mangiamo sempre almeno altri 5-6, questo è un elemento sul quale dobbiamo tornare. Discorso poi del dopo partita di Conte, finalmente un dopo partita normale, un dopo partita in cui Conte sostanzialmente ha detto le cose che un allenatore normale deve dire senza litigare con nessuno, accettando le domande, dicendo ovviamente che bisogna mettersi l'elmetto, cadendo un pochino in contraddizione quando gli si è chiesto di Eriksen, non parlo dei singoli però poi Subarella ha parlato e come, anche su Sensi, ecco c'è da parlare di Sensi perché è l'uomo che ha cambiato questa partita con il suo ingresso e continua a pensare che se noi avessimo Sensi, avessimo avuto Sensi dall'inizio probabilmente staremmo a raccontare altre cose ma questa è la realtà, non è più il momento di scuse, di alibi, devo dire che poi Conte sul 3-1 a fine partita gli sono partite anche un paio di parolacce, anche abbastanza pesanti, verso la tribuna, insomma poi Conte è bravissimo anche quando le cose vanno bene a riuscire a far parlare di sé, con chi ce l'aveva? A quanto si viene a sapere qualcuno ha detto quei dirigenti ovviamente non è questo, il problema non era questo il bersaglio, probabilmente ce l'ha con noi, con noi che facciamo il nostro mestiere, con noi che da punti di vista magari diversi analizziamo questa stagione dell'Inter che per metà se n'è andata fallita e lo ripeto perché trovarsi senza Europa è una cosa che è assolutamente imperdonabile e che potrà essere perdonata soltanto se l'Inter vincerà lo scudetto, è una frase che continuo a ripetere come un mantra ma non perché credo di vincerlo ma semplicemente perché è l'unica cosa che può riscattare ovviamente la seconda stagione al momento di Antonio Conte, quindi l'Inter è condannata, obbligata a lottare per lo scudetto e quindi adesso con una partita alla settimana non ci sono più scuse, la rosa dovrà essere come vi ho detto e lo ha ammesso anche Conte, snellita, la grande differenza è che bisognerà accettare che i giocatori se ne vadano anche partecipando ai propri ingaggi, sto parlando di Vecino, sto parlando di Nainggolan, sto parlando naturalmente probabilmente anche di Pidamonti e certamente di Eriksen perché è chiaro che il ragazzo con Conte continua a non trovarsi, non è il fatto che sia partito oggi, anzi credo che nell'ultimo ennesimo vertice tra la società e Antonio Conte, sia stato chiesto ad Antonio Conte di valorizzare se è possibile Eriksen per più minuti, non di sindacare sulle sue scelte perché se andiamo a sindacare anche le scelte quando si vince non andiamo a casa più. E' chiaro che c'è molta malafede tra certi tifosi, c'è molta prevenzione, ma è giusto adesso, ripeto, che ci sia, come ho detto, dopo che sei usciti dall'Europa ci sta tutto e deve essere l'Inter, assolutamente l'Inter a rispondere sul campo. Non è che, certo che vincere dopo quello che è successo in questa settimana con tutte le palate, diciamo di menta, che legittimamente, torno a usare questo avverbio, legittimamente sono state scagliate contro l'Inter, sicuramente dal punto di vista psicologico non era facile, ma l'Inter ha le qualità, Conte deve avere ovviamente le risorse psicologiche per reagire bene, anche sotto pressione. E torno a dire, la notizia, se vogliamo, più bella di oggi, ma non è che mi commuovano, è che c'è stata finalmente una partita comunque da Inter, anche se ogni volta dobbiamo inseguire, ogni volta sembra che ogni partita vinta sia un'impresa, e devo dire che anche il dopo partita, finalmente, di Antonio Conte è stato un dopo partita normale, senza dover tirare per forza un insulto a uno o un insulto all'altro. Adesso, come ho detto, per parlare di svolta io personalmente ho bisogno di cinque vittorie, in realtà, essendo molto più pragmatici e pratici, non credo che l'Inter potrà cambiare molto la sua classifica prima di Natale, non credo, dipende dagli altri, perlomeno non dipende dall'Inter, ma è chiaro che adesso c'è un big match importante a San Siro con il Napoli che va vinto, poi c'è una partita con lo Spezia sempre a San Siro che va vinta e poi posso concedere magari a Verona, vorrei la vittoria, ma posso concedere che ci possa essere il pareggio a Verona che è una buona squadra. Diciamo dieci punti, insomma, dieci punti in queste quattro partite, i primi tre sono in cascina, ora ne occorrono almeno altri sette in queste tre partite. Un saluto, non è che si cambi umore dopo una vittoria che, se non altro, tiene l'Inter in scia al secondo posto in campionato. Ripeto, io non so, nel momento in cui parlo, i risultati degli altri, ma non mi interessa, è il momento che noi continuiamo a guardare e cominciamo veramente a guardare a noi e solo a noi. Ciao a tutti, un saluto, viva l'Inter!